Buongiorno ragazzi, allora anche la domenica si lavora. Volevo soddisfare una richiesta ieri per quanto riguarda l'improvvisazione. Allora vi spiego due pattern della scala di re maggiore e poi vi allego una backing track sulla quale poter improvvisare ed esercitarvi. Dato che se metto il link YouTube, praticamente il post su Facebook sarà visibile quasi a nessuno per ovvie ragioni di conflitto tra i due social network, vi metto uno screenshot di quello che dovete cercare su YouTube, ok? Allora, i due pattern. Il primo è questo qui. Allora parliamo del pattern costruito su questo accordo di re maggiore, ok? Per chi non lo conoscesse, la prima posizione del cadget, che sarebbe il nostro Do maggiore portato avanti di due tasti, ovviamente con l'ausilio del barret perché non c'è il capotasto qui che ci aiuta. E il pattern è questo. Vi dico le note. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Per sfruttare quest'altra corda, quindi da Re, Do diesis, Si, La, Sol, Fa diesis. Andiamo avanti perché è finita la chitarra. Sol, La, Si, Do diesis, Re. Quindi. Ok, l'altra posizione è questa qui. Sempre un Re maggiore e la scala è questa. Sì, scusate. Anche qui torniamo indietro, dopo il Re. Magari poi successivamente vi faccio vedere anche le due pentatoniche che si costruiscono su questi due pattern, così che possiamo arricchire l'improvvisazione. Allora, quello che dovete fare è cercare la backing track. Io nel frattempo l'ho messa sul cellulare, spero si senta bene nella registrazione. E voi la mettete sul computer e vi esercitate. Prima facendo l'intera scala e poi magari giocandoci un po'. A un certo punto c'è lo stacco di batteria. La scala. Ho fatto la scala intera. Poi magari potete giocarci, tipo... A un certo punto c'è lo stacco di batteria. Passiamo a pattern di dopo, scala completa. A un certo punto c'è lo stacco di batteria. Potete mischiarle. E basta ragazzi, ovviamente potete stare ore a fare questi giochini. Però questo è il procedimento. Fate nota per nota. Quando avete memorizzato benissimo le scale, i due pattern, ci improvvisate, giocate, perché suonare significa giocate, play in inglese lo sapete, senza uscire mai dai pattern. Altrimenti ci saranno delle note stonate. E niente. E divertitevi. Buona domenica. Ciao.